ciao e benvenuti in questo nuovo video sono felicissima di fare questo video perché ho sempre voluto farlo ma credo in dieci anni youtube di averne fatto uno due questo forse è il terzo insomma i preferiti del periodo non mi piace dire del mese perché io non ho un preferito nuovo ogni mese sono una persona molto fedele nella vita e anche nelle cose che utilizzo soprattutto quando mi fisso su una cosa finché non mi esce dalle orecchie non vado oltre quindi oggi facciamo un po un tour nel mondo del benessere femminile e partiamo dal beauty lo so non ve l'aspettate da me ma da in realtà sarò sincera da quando bloomwell si è evoluto anche nel mondo beauty e bellezza mi sono molto appassionata e quindi tantissimi prodotti beauty sono entrati nel mio beauty case e io ho incominciato a scoprire tutto questo mondo quindi beauty pelle due prodotti di questo brand tra parentesi nulla di questo in questo video è sponsored se non una cosa ma poi vi spiego un attimo non sponsor di questo video comunque questi prodotti di svr abbiamo questo che è il topia la topia lies ed è un anti irritazione praticamente io lo sapete uno se non lo sapete ve lo dico praticamente io soffro di pitiriasi versicolor mi è stata aggnosticata un po di anni fa e purtroppo la soluzione che non c'è soluzione al questo fungo che noi abbiamo tutti sulla pelle piace particolarmente il ph della mia pelle soprattutto d'estate che è il momento in cui esce più fuori e mi mangia la melanina io non ci posso fare niente se non cercare di cambiare o comunque rendere ostile il ph della mia pelle utilizzando dei prodotti per coi che mi ha prescritto il dermatologo quando mi lavo il problema è che quando arriva in fase acuta come è in questo momento quindi se mi vedete grattare non so che cosa farci devo applicare questo quando in fase acuta non so se si notano ma mi escono delle macchiette rosse solitamente sul decolleté e sulla schiena e uno dei prodotti che sto utilizzando maggiormente è questo di appunto svr lo applico e mi lenisce e mi fa respirare non mi fa scorticare la schiena e sopravvivo non non so se mai riuscirò a debellarlo però questo per me è un'ottima soluzione quando in fase acuta altro prodotto di svr riguarda la protezione solare viso praticamente questo è una crema colorata che fa una sorta di base viso per me è meravigliosa d'estate uno perché è protezione 50 più e due perché essendo colorata da una è una sorta di bb cream adesso vi faccio vedere mi sento molto beauty in questo momento non so se si se si vede vabbè insomma è colorata e sul viso sulla pelle tanto io non credo neanche di essere truccata ora vabbè momento skin care sulla pelle va non solo a creare una sorta di base ma è anche un pochino opacizzante e quindi è perfetta per l'estate dove io solitamente d'inverno già pochissimo solo quando esco ma non mi trucco cioè metto soltanto il contorno occhi perché le occhiaie ci sono ma anche soprattutto se quando mi abbronzo non mi trucco assolutamente quindi avere una base viso colorata perché da protezione solare perfetta e questa ha una texture bellissima mi piace molto mi trovo molto molto bene rimanendo sempre in ambito beauty ma passando alla cura del corpo questo gel defaticante di centellase questa è la premessa che avevo fatto all'inizio ho lavorato insieme a loro su instagram quindi questo video non è sponsor ma è un prodotto che mi sta piacendo veramente tanto perché è veramente rinfrescante nel momento in cui lo applichi quando mi sento le gambe quando sia proprio quando pulsano quando sono calde questo è meraviglioso e in più mi dà quell'effetto che compatti la pelle e gli dà un po di tonicità insomma mi trovo veramente molto bene e sono sicura che quest'estate lo sfrutterò tantissimo rimaniamo in ambito beauty ma passiamo ai capelli che come vedete anche oggi ci ho dato dentro sì mi piace moltissimo questa ve la devo ancora filmare io le testo le provo prima e poi ovviamente ve le pubblico comunque se mi seguite su instagram avrete visto che mi sto molto appassionando alle acconciature penso che veramente non avevo ho sempre sottovalutato quanto i nostri capelli possono essere un grandissimo accessorio quando si esce cioè io sempre ho avuto dei capelli lunghi per gli ultimi quattro anni dove ho avuto questo pazzia che vi chiedo scusa capelli non succederà mai più chiedo perdono grazie per essere ritornati ma ho sempre avuto i capelli lunghi e ho sempre detto capelli lunghi sciolti e via invece mi rendo conto sempre di più che una bella acconciatura che anche solo un attrecciamento in questo caso un attorcigliamento può dare quel livello un pochino di sofisticatezza in più a outfit o comunque a momenti molto molto basic e devo dire che mi piace tantissimo fare le acconciature per i miei allenamenti o comunque quando mi alleno cioè l'acconciatura un po' fashion un po' glam sull'outfit sportivo mi fa morire mi piace tantissimo vabbè ai miei cose comunque grandissimi alleati sia delle acconciature ma in realtà anche di quando mi faccio le code lei la cera stick contro contro i baby hair io soffro di baby soffro di baby hair ora è un po' esagerato da dire comunque ho tanti baby hair perché sti capelli continuano a crescere ovunque e ogni volta che faccio una coda poi ho quella aureola che insomma non è troppo piacevole sarò sincera non fa lo stesso ok però con questo riesco a fare quella coda dove poi li riesco a incollare alla testa senza riempirmi di forcine che sono un po' bruttine da vedersi e funziona in modo molto molto efficace praticamente si apre cioè lo stick e la cera è dentro si spinge da dentro da sotto lei esce e la applichi direttamente sul capello infatti e poi si rispinge dentro e si chiude perfetto in combo ho preso lei che ha questa spazzola un po' particolare che è con questi crini potremmo dire con questo pettine un po' un po' diverso dal solito che quando magari fai la coda all'indietro va a uniformemente distendere insomma spargere il prodotto ma soprattutto a pettinarle all'indietro in modo uniforme non avendole i pettine quelle setole che vanno in mezzo ai capelli non crea le strisciate ma in modo molto delicato va a creare una sorta di lipareggia cioè nel senso non so come spiegarlo ma dà l'effetto di tutti insieme tutti uniti e non separati vabbè più o meno eh cioè più o meno si capisce questi due perfect combo continuiamo con il beauty raga lo so non ve lo aspettate da me io lo so neanche io da me stessa ma abbiamo due prodotti labbra devo andare a prendere l'altro perché non ce l'ho quindi due prodotti labbra allora questo primo prodotto labbra in realtà è un plumper ragazzi voi non avete idea dell'effetto che faccia questo io l'ho messo ieri vi dico praticamente esce questo gel e si mette tipo un lip gloss è trasparente niente di che ma tempo due minuti ho delle labbra gonfissime e mi fa ridere perché ieri ho fatto un selfie con ste labbra e una ragazza mi ha scritto che hai fatto in labbra e mi ha detto eh nulla questo si chiama smart filler lip booster effetto rimpolpante con insta plump ed è di rouge plus magari vi sentivo tutto sotto in descrizione è divertente non dura tantissimo l'effetto praticamente credo che abbia tipo del peperoncino dentro che fa un po' gonfiare le labbra a me piace è un effetto molto naturale è giusto così per vedersi un pochino più più rimpolpate comunque poi secondo me durante tutto il resto della serata rimangono però insomma just for fun vediamo che dovevo fare forse l'effetto prima e poi ora farò vedere la differenza ma vabbè magari lo faccio comunque un pochino le da un po' di colorito e le gonfia un altro che però ora non indosserò perché ci impiego ore a indossarlo bene a metterlo bene è il super vinyl no transfer di Deborah questo raga è veramente no transfer cioè lo metti e puoi baciare appoggiare le labbra ovunque non va da nessuna parte infatti è molto difficile da togliere la sera sono sincera non va via facilmente di andare giù di olio pesante e struccante a comicellare tutte le cose struccanti che ci abbiamo a disposizione quindi fa il suo decisamente non consigliato se sei una di quelle che arriva a casa la sera distrutta vuole solo andare a letto magari ti strucchi tipo così con un po' di acqua micellare mentre ti stai lavando i denti non lo fate struccatevi per bene ma insomma scherzo è veramente veramente super super efficace allora lo so basta beauty products finito fatemi sapere se questa parte beauty vi è interessato io adoro in realtà mi sto appassionando molto ho altri prodottini molto interessanti passiamo a una cosa tecnica che probabilmente vi sembrerà un po' strana ma dovete sapere che nell'ultimo periodo hanno cominciato a vedere queste tipo cose strane dietro i telefoni delle mie amiche e non capivo vedevo queste tipo ventosine a un certo punto una mia amica mi ha mostrato e vi devo far vedere praticamente sono uno sticker che si attacca sul retro del telefono sulla cover e ha una buona potenza perché non lo staccherò mai e la cover è rovinata per sempre molto bene e è comodissimo posso essere sincera è veramente veramente comodo ovviamente per chi magari fa il mio lavoro e quindi può avere bisogno di dover appiccicare il telefono su una superficie su un vetro su uno specchio tipo io mi trovo benissimo ad attaccarlo sullo specchio del bagno magari fare dei video beauty oppure attaccarlo al vetro e perché c'è la luce naturale da davanti insomma ovviamente non penso che non tutte le persone lo lo prenderebbero ma un mio dubbio era quello che mi desse fastidio che mi si appiccicasse mi facesse colla dentro la borsa dentro il telefono non è così impattante ovviamente è più spesso perché c'è questa parte che fuoriesce quindi in tasca magari da un po' fastidio ma sarò sincera è veramente veramente comodo questa piccola cosa così poi altro preferito del mese e in realtà ultimo su quale a questo punto chiudo ma se è un format di video che vi piace fatemelo sapere nei commenti sarò super felice di riproporlo magari non sul preferito del mese ma su cose che apprezzo in questo periodo un esercizio in particolare si parla di addominali voi sapete che ogni tanto io me ne esco con degli esercizi nuovi perché mi metto sul tappetino e comincio a fare delle prove che è la stessa cosa che faccio magari con i capelli mi metto lì e comincio a fare delle prove e alla fine qualcosa mi esce e questo esercizio per l'addominale è fenomenale si tratta di un plank dove si va a ruotare il bacino quindi un plank twist cioè una piccola torsione e da lì dal plank sui gomiti si sale indietro in un pike sui gomiti ovviamente mantenendo la torsione si va a lavorare in modo super efficace e tosto sulla fascia laterale del retto addominale si sente proprio lavoro su quel gradino della parete addominale dell'addominale qua tipo si va a lavorare molto sulla v-shape e io lo adoro in questo periodo lo sto ficcando ovunque come al solito io mi innamoro di un esercizio lo metto ovunque tempo tre mesi mi dirai si chiama quel plank io no quel plank e vabbè sono fatta così come per tutto e basta no raga ce l'ho l'ultima cosa poi vi lascio andare davvero ho trovato super random questo video ho trovato i mirtilli grossi e non è scontato perché in realtà in altri supermercati non li ho mai trovati così grossi ma sempre molto piccolini quindi mirtilli grossi surgelati a Lidl a 8 euro al chilo e è pochissimo perché alla metro che è un dove costano molto poco sono su 10 euro al chilo un pacco quindi se passate per il Lidl sperando che tengano i prodotti perché a volte alcuni prodotti a Lidl sono delle meteore quindi speriamo che li mantengano ma mirtilli grossi grossi surgelati a Lidl super consigliati basta io spero di avervi un pochino divertito intrattenuto in questo video e io vi saluto vi chiedo di lasciare un commento per farmi anche sapere se questa tipologia di video vi è piaciuta o vi può piacere cos'altro vorreste vedere anche agli altri ambiti e ovviamente se siete nuovi di iscrivervi al canale noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao grazie grazie a tutti